Rileggere i classici è sempre emozionante. Vi si trovano cose antiche e cose nuove. Oggi parliamo di Orwell, George Orwell, il celeberrimo autore di 1984. E perché? Perché è uscito un saggio estremamente illuminante, non solamente su 1984, ma sull'opera di Orwell. Questo saggio si intitola Gabriele Adinolfi rilegge Orwell, 1984, sei tu. Gabriele Adinolfi, saggista, scrittore, ci ha dato con questo testo, come dicevo, una illuminante interpretazione, non solamente di 1984, ma dell'intera opera di Orwell e in particolare della trilogia composta da omaggio alla Catalogna, La fattoria degli animali, e 1984. Perché dico illuminante? Perché Adinolfi riesce a farci comprendere come la società descritta in 1984 sia sicuramente quella comunista che Orwell poteva vedere nel suo tempo all'Unione Sovietica di Stalin, dominata appunto dalla Soching, ma anche la nostra società, una società non antidemocratica ma iperdemocratica che porta agli estremi limiti le caratteristiche negative della democrazia. E in effetti quel che viene illustrato in 1984 è l'esempio forse più alto di una utopia che si trasforma in distopia. E per Adinolfi, correttamente, ogni utopia basata sul raggiungimento di un qualche cosa che non è dell'uomo ma è imposto all'uomo, è il titanismo dell'uomo, ebbene ogni utopia di questo tipo si trasforma nel terrore, si trasforma in una distopia. E tutto questo quindi è terribilmente attuale perché accade anche nei nostri giorni e soprattutto nei nostri giorni. 1984 non è un testo che parla del passato, che parla dell'Unione Sovietica di Stalin, è un testo che parla dell'oggi. Basti pensare al bipensiero, basti pensare alla neolingua, tutti i tratti caratteristici purtroppo della nostra attualità. Ma certamente perché 1984 sei tu? Perché siamo noi, tutti noi, che consentiamo che questo tipo di società abbia luogo. Perché siamo irretiti nell'ambito di una visione utopica, distopica. Non riusciamo ad andare fuori dalla dialettica utopia, distopia. E Adinolfi invece ci dice che per reagire, per opporci, per dare una nuova forma, la risposta c'è. E la dobbiamo cercare non nella dialettica utopia, distopia, ma nel mito. E ci sono degli autori che ci consentono di fare questo. Molti autori della modernità, due fra tutti. Ernst Jünger, soprattutto nel Trattato del Ribelle, e Julius Evola, e nel suo celeberrimo saggio Cavalcare la Tigre. È in questi testi che possiamo riuscire a cogliere quella vittoria che invece nel cupo mondo di Orwell, nel cupo mondo di 1984, non può essere colta. Al di là dell'utopia che si trasforma nell'orrore della distopia, c'è il sempre vivificante mito, che è l'eterno al di fuori della storia, che si fa vivo nella storia.